Musica Diamo il benvenuto a Gabriel Appelt-Pires, volto nuovo di questo Pescara Targato Baroni. Cosa ne pensi di questi primi giorni in Biancazzurro? Sono arrivato bene, i ragazzi mi hanno ricevuto benissimo. Niente, stiamo lavorando forte e dobbiamo lavorare ancora tanto per questa squadra arrivare nella prima partita bene concentrata e con tutto a posto. Tu sei giovanissimo, però in due anni hai già collezionato oltre 40 presenze in Serie B tra Provercelli e Spezia. Quale può essere il tuo apporto qui con il Pescara? Questi due anni sono stati due anni di crescita anche come squadra perché il primo anno con la Provercelli è una squadra, una piazza non tanto importante. Dopo la Spezia abbiamo fatto ancora un po' meglio e spero quest'anno fare ancora meglio e arrivare fino alla fine bene. Io sono un centrocampista più tecnico e preferisco lì attuare davanti alla difesa in mezzo al campo a tre e questo. Qual è il giocatore a cui ti ispiri o comunque a cui vorresti somigliare? Io non ho un giocatore solo, però cerco di prendere delle caratteristiche di quelli che mi piacciono di più, come Kakà, Pirlo e Ronaldinho. Mettere un po' più tutti insieme e fare quello, fare il meglio. Grazie. 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 Grazie.